ciao a tutti e benvenuti sul mio canale eccomi qui finalmente con un nuovo video tutorial portate pazienza, mi è stata una settimana lunghissima con tante cose da fare ed un'influenza che purtroppo non mi ha mai lasciato comunque eccoci qui ormai manca pochissimo Natale ed io sono già proiettata verso l'anno nuovo la Befana, Capodanno oggi vi volevo far vedere come realizzare questo simpatico progettino che io ho intitolato Biba la Fattina Spazzaguay diciamo che ho mescolato un po' di cosine tra cui il senso della Befana, una Fattina e la scupetta classica Spazzaguay quella che si regala di solito con l'inizio dell'anno nuovo e simbolicamente che spazi via i problemi futuri bene, vi faccio vedere due o tre cosine poi partiamo subito allora, questa Biba Spazzaguay io volutamente l'ho lasciata aperta sul fondo primo, perché magari le bimbe potessero utilizzarla anche come marionetta due, perché magari si potrebbero regalare con qualche cioccolatino all'interno tre, perché magari si potrebbe inserire sempre all'interno un bigliettino con una frase simbolica porta fortuna utilizzandole magari come segna a posto bene, partiamo vi faccio vedere come procedere sposto un attimo le mie bimbe che qui è un'invasione letterale poi logicamente con i vestitini e gli adobbi vi potete sbizzarrire allora, vi servono due sagome semplicissime sagoma 1 un cerchio diametro 15 cm sagoma 2 un quadrato 13x13 cm ritagliate una sagoma per tipo del panolenci feltro 1 mm quello che preferite decori, abbinamenti, come volete io li ho già preparati allora il mio quadrato, il mio cerco, eccoli qui partiamo con il quadrato che farà da base alla nostra Biba Fatina allora, abbasso un attimo lo schermo, se no non riuscite a vedere ottimo allora, primo passaggio oltre a questo quadrato vi serve anche un pezzettino di rasetto fino eccolo qui quello da 3 mm giusto per fare una legatura allora, prendiamo il nostro quadrato lo andiamo a piegare praticamente a metà in questo modo quindi, prima piegatura seconda piegatura andiamo ad incollarlo su se stesso quindi, se vi faccio vedere meglio prima di procedere con l'incollaggio andiamo a mettere una striscetta di colla sulla prima metà in questo modo ed andiamo ad incollare sopra la seconda metà in modo da creare praticamente il nostro tubicino aperto lato per lato benissimo adesso ah, piccola nota bene se vedete che logicamente non è perfettamente allineato qui andate a rinfilare poi a rifilare scusatemi in modo che sia comunque dritto bene, adesso ci serve il pezzetto di raso andiamo a prendere la parte superiore in questo modo qui ed andiamo a legarlo nota bene numero 2 mi andate a fare il nodo sul retro dove c'è l'aggiunta per intenderci andiamo a fare due nodini e tagliamo via quello che non serve in questo modo benissimo praticamente abbiamo creato la nostra base della biba adesso andiamo a capovolgere questo bordino che ci farà da collo del vestitino e dove anche andremo a posizionare la testina così nello stesso tempo si nasconda anche la legatura del nastrino benissimo mettiamo un attimo da parte prendiamo il cerchio adesso andiamo a fare una piccola piegatura ma un quarto direi come misura andiamo a metterci la colla per bloccare in questo modo qui capovolgiamo prendiamo il vestitino lo andiamo a posizionare al centro in questo modo e a bloccarlo con un pochettino di colla a caldo quindi al centro andiamo a mettere un goccio di colla posizioniamo il vestito ecco mi raccomando questa è la zona dove dovrete andare a posizionarla con la colla non qui sopra qui sotto perfetto tiriamo giù di nuovo poi il colletto adesso facciamo questa semplice piegatura che andrà a creare la giacchettina della nostra bibifatina in questo modo e incolliamo quindi un po' di colla da un lato un po' di colla dall'altro e andiamo a chiudere la giacchettina ottimo e la base direi che è già pronta prendiamo la nostra testina innovata diametro 3 cm già dipinta come al solito anche se qui c'è una new entry la faccetta è un attimino un po' più simpatica quindi non quella della speed angelina con gli occhi chiusi ma bensì con gli occhi con gli occhi vispetti aperti andiamo ad incollarla qui sulla nostra base quindi colla a caldo posizionate tenete premuto un attimino che faccia presa benissimo adesso direi di preparare la scopetta e poi finiamo con i capelli allora per la scopetta vi serve una barrettina di legno di queste tipo stecche da gelato che si vendono anche per bricolage e un po' di raffia sintetica questa qui a metro precisamente per fare la scopetta vi servono circa 75 cm di raffia io adesso vi faccio vedere come procedere allora andiamo a piegarla sposto un attimo lei andiamo a piegarla su se stessa 5-6 volte a seconda poi della misura che voi andrete ad utilizzare in questo modo ecco qui e abbiamo creato questa specie di faggottino di raffia prendiamo un pezzetto di gavetta fina sempre dello stesso colore andiamo a fare a questa altezza qui un nodo e un'asoletta ecco nodino facciamo facciamo la nostra asoletta quindi il nostro fiocchetto benissimo tagliamo via la gavetta in eccesso e anche la raffia e adesso qui sotto dove appunto la raffia è unita andiamo a tagliare per fare l'effetto scopetta in questo modo qui e adesso fate così con le mani in modo da aprire bene la raffia e appunto creare la nostra scopetta riprendiamo la nostra barretta di legno e l'andiamo ad incollare più o meno a tre quarti quindi goccio di colla posizioniamo e la nostra scopetta scaccia guai è pronta riprendiamo la nostra biba andiamo a posizionare la scopetta adesso io l'ho pensata qui dopo insomma vedete voi dove preferite sempre colla a caldo e la andiamo a bloccare qui sul lato del vestitino ecco un nota bene cercate di non metterla troppo in basso perché sennò poi la nostra biba non rimarrà più in piedi perfetto adesso passiamo al fiocchetto ci teniamo per ultimi i capelli che sono sempre un po' problematici queste cose qua da parrucchiera allora prendiamo un pezzetto di raso nastrino insomma quello che volete facciamo il nostro fiocchetto al volo quindi vi rimostro piegate in questo modo passate davanti passate dietro inserite non vedo portate pazienza ecco qui e andiamo a tirare per creare il nostro fiocchetto poi lo rimpicciolamo in questo modo qui e andiamo a tagliare via quello che non ci serve si è incastrato male bene allora accorciamo i capi ed andiamo ad applicarlo alla nostra biba qui sul colletto prima di ciò però io ho pensato di applicare un quadrifoglio porta fortuna un piccolo charms quindi vado ad incollare questo prima sul retro sopra il nudino con un goccio di colla e poi applico il tutto sul colletto quindi in questo modo blocchiamo prima questo un altro goccio di colla ed andiamo ad applicare in questo modo il nostro fiocchetto e poi dopo sistemiamo un po' eccolo qui ah adesso io mi sono dimenticata per il tutorial comunque se usate il nastrino di raso come sto facendo io poi mi raccomando i capi qui che tagliate e passateli un attimino con l'accendino perché se no tendono sempre a sfilacciarsi ottimo la nostra bb fatina è quasi pronta passiamo ai capelli ah e manca la coroncina giusto allora prendiamo un po' di capelli questi qui sintetici sto usando adesso il colore beige allora piccolo trucchetto che ho imparato io a forza di usarli è fare l'effetto crespo nel senso che così almeno viene carina ecco un po' con i capelli gonfi come in questa versione qui allora quindi prendete fate così tra le mani tirate bene tutti i riccioli in modo che si aprano bene tornate a fare così adesso io credo di averne usate un po' troppi quindi ne togliamo un po' poi li utilizzeremo per un'altra andiamo a vedere direi che sono ancora un po' tantini lo avevo predetto io che questi capelli mi fanno sempre dannare ecco e adesso praticamente andiamo ad applicarli sopra la nostra biba quindi colla sulla testina prendete il vostro cespuglietto di capelli e andiamo a bloccarli sopra la testina poi insomma le precisazioni i ricciolini vari li andiamo a bloccare poi che direi è avvenuta anche già carina benissimo ultimo passaggio allora passiamo alla coroncina che tutte le nostre biba hanno allora vi serve un rettangolino di pannolenci misura 7x2,5 cm semplicissima da fare allora prendete questo rettangolino lo incollate su se stesso in questo modo anche qui non serve non serve big shot non serve niente sono cose abbastanza semplici che poi anche se non escono perfette insomma non importa bene schiacciatelo praticamente in questo modo qui e adesso andiamo a fare due semplici tagli quindi primo taglio partite dalla prima punta qui intagliate un po' di sbiego ecco non so se riuscite a vedere partite dal centro e unitevi fino a dove avete tagliato praticamente per creare un triangolino scusate e lo staccate stessa cosa adesso andate giù tagliate fino a tre quarti e poi dalla punta unitevi di nuovo per creare un altro triangolino che si staccherà da solo e abbiamo creato la nostra coroncina senza bisogno di stampi big shot o altro adesso vado ad applicarla sulla testa della nostra biba po' di colla quindi sul bordo inferiore scegliete poi se metterla da un lato in mezzo a destra o a sinistra io ho la fissa ultimamente di metterla da un lato ecco qui e la nostra biba fattina spazzaguai è già pronta poi se volete appenderla nessun problema magari prima di applicare il vestitino qui sul retro andate a mettere un spaghetto in modo che possa essere anche appesa bene ragazzi io spero che vi sia piaciuta la mia idea semplice veloce senza cucire come al solito io con le mie speedy biba fatine spazzaguai vi saluto e vi auguro buon lavoro grazie a tutte ciao ciao